Ciao Fabio, buongiorno. Buongiorno Roberto. Allora siamo qui per il quarto turno. Esatto, e che quarto turno. Però senti, prima di parlare degli azzurri volevo parlare dell'ultima prestazione delle zebre che siete andati a Glasgow con i Warriors, che è stata l'ultima partita fuori casa dove Franco ti ha fatto lo sgambetto. Sì, sì, sì. Beh, loro stanno facendo un gran bel campionato, una squadra che veramente sta giocando bene, fa del possesso la sua arma migliore e anche del drive poi. Noi, lo so, il risultato dice tutt'altro, però in realtà abbiamo avuto soprattutto un inizio di partita molto buono, abbiamo subito creato le prime occasioni nei primi minuti, abbiamo segnato dopo un minuto e mezzo, abbiamo ricostruito subito dopo altre due opportunità. E durante la partita abbiamo avuto dei momenti importanti e di crescita, però non abbiamo non abbiamo portato a casa il macinato perché ancora abbiamo delle grandi difficoltà con la tush e soprattutto drive in attacco e drive in difesa. E questo un po' ci penalizza, ci tiene un po' incollati a livello a cui siamo e facilmente più di un giocatore cade in frustrazione perché si rivede un po' la partita che ormai è andata e quindi poi la squadra di Franco insomma ti dico col drive. Sono fisici loro. Sì, ci ha messo in grande difficoltà. Peccato perché ripeto ancora la squadra mostra dei dei flussi di gioco molto molto interessanti e costruisce e costruisce opportunità. Vabbè insomma i risultati prima o poi arriveranno. Eh sì, insomma se arriveranno se facciamo i passi in avanti in tutte quelle che sono le aree del club. Beh, insomma, comunque di giocatori buoni ce ne sono, ma poi questo ne parliamo dopo quando vediamo le formazioni dell'Italia. Senti, la prossima invece è con Cardiff in casa, l'ultima del 24 marzo. Sì. 20 e 10. Cardiff in casa, sì. Sei che quando giocate le 20 e 10 è un casino perché noi non sappiamo dove mangiare. Non puoi mangiare prima perché è troppo presto nessuna fame. Mangi dopo non trovi nessuno che ti dia da mangiare, un casino. Dove devi spostare gli orari. Davvero un orario è un po' malordo. Esatto. Adesso allora alle 20 e 10 è ancora fattibile. Quando giochi alle 9 già ti scombussola tutto anche perché a Parma non è che tu puoi andare a mangiare alle 2 di notte. No, no, certo non è Roma. Roma a qualsiasi ora esce o le grandi metropoli. Esatto. Quindi allora Cardiff in casa il 24 marzo. Poi dopo partite per andare in Sudafrica. Ad aprile, sì, a metà aprile abbiamo le ultime due partite in Sudafrica, Bulls e Lions. Ci piacerebbe anche aiutare Benetton nella corsa ai playoff e quindi partire già da Cardiff. Sta andando forte Benetton? Sta mostrando una grande crescita anche come club, quindi non solo nel reparto proprio sportivo, ma quella è la sua strada. È quello che ha sempre voluto dimostrare Treviso e lo sta facendo anche con la sua identità. Quindi è ben fatto. Poi leggevo che hanno fatto un gran colpo di mercato. Eh sì, sì, sì. Beh, anche quello dimostra la crescita, no? Dimostra l'ambizione, dimostra dove vogliono provare ad arrivare. Quindi è giusto che sia così. È certo. Ed è importante non solo per loro, ma per il rugby italiano. Italiano, no? Per tutti noi, certo. Esatto. Vedi comunque delle partite interessanti, vedi delle squadre che giocano contro di loro molto forti, che comunque sono competitive. Cioè sono squadra numero uno, non c'è che dire. Grandi allenatori, poi uno staff eccezionale. Sì, anche quello, anche nello staff, negli ultimi anni, ma un po' da sempre, insomma, sempre anche lì. È fatto delle scelte importanti, delle scelte su persone, su competenze veramente di altissimo livello e questo probabilmente, anche questo gli aiuta ad ottenere, ad arrivare nelle posizioni in cui sono adesso. Certo. Senti, prima di passare ancora adesso agli azzurri, volevo chiederti un'opinione sul top 10. Che vedi in continuazione ribaltamenti di fronte, mancano cinque giornate i playoff, eh? Io sono contento proprio perché non è più un top 10 scontato, non è più una corsa a due, tre squadre, è una corsa veramente a tante squadre e ogni ogni weekend, come hai detto tu, insomma, le cose possono, diciamo, il gioco forza può essere ribaltato e devo dire che comunque anche lì ci sono squadre che fanno delle prestazioni, se non per 80 minuti, ma comunque sono delle buone partite. Sì, sì, anche perché comunque gli ultimi venti minuti non è che vedi, hai capito, le squadre oramai che abbassano il livello del gioco, no, no, gli ultimi venti minuti si sono giocati dei bei risultati anche. Sì, 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 vanno avanti, vanno avanti fino alla fine con le loro strategie, con loro, con il loro stile. E hanno, insomma, i roster delle squadre sono buoni roster, sono ben equilibrate. È vero, Petrarca dimostra sempre magari un pochino, un pochino di essere più, più confidente o più, più la squadra che traina, però, insomma, anche le altre squadre non, non devono, non devono, cioè, devono, essere contenti e orgogliosi di quello che stanno facendo. La, la, la lotta è aperta. Sì. Cioè, sicuramente forse, eh, Calvisano, Fiamme, Oro, Colorno, insomma, però, ecco, non è più un campionato scontato, quindi lo vedi anche con molto più piacere. Sì, guarda, allora, la classifica dice Petrarca 51, Rovigo 46, Valoragbi 43, Fiamme 42, Colorno 40, Calvisano 35. Tra parentesi, Calvisano che sembrava una squadra abbastanza condannata quest'anno, ha avuto un, una serie di, di prestazioni non indifferenti. Eh, ma, insomma, è un club, anche lui, insomma, negli ultimi anni, insomma, è stato sempre sulla, sulla vetta del, del campionato. Poi, insomma, Gianluca Guidi è un ottimo allenatore, anche lui. E, insomma, è una squadra che anche, ecco, non puoi, non puoi prenderla sotto gamba. È una squadra che sa giocare, è una squadra che sa costruire, che sa segnare, che sa difendere. Quindi, è un bel campionato. Sì, sì, è la squadra, diciamo, rivelazione al contrario, è un po' colorno, perché io avevo pensato che con tutti i giocatori che sono andati via da voi, dalle zebre, che sono andati, e degli altri acquisti che, che avevano fatto, che Casellato aveva fatto, e lo staff che hanno, che è uno staff importante, pensavo che fossero, diciamo, i diretti concorrenti, invece sono fuori dalla Coppa Italia, e hanno inannellato una strisce di risultati negativi che, sinceramente, non mi sarei aspettato. Sì, sì, probabilmente è così, la lettura. Eh, per quello che riguarda la Coppa Italia, non so quante squadre siano veramente interessate alla Coppa, visto che anche la formula del top 10 è comunque una formula molto lunga, no? I nostri campionari italiani sono quasi ineluminabili. Quindi, sull'interesse non lo so, però la lettura è chiara, insomma, hanno, hanno, si sono rinforzati, hanno fatto tanti, tanti acquisti per rinforzare la squadra. Non è detto che il primo anno, quando arrivano tutte queste persone, riesci, insomma, a trasmettere quello che è il tuo, il tuo modello di gioco. Ehm, poi, comunque, consideriamo anche che hanno avuto infortuni importanti, anche coloro, i giocatori importanti all'inizio del campionato hanno avuto, hanno subito infortuni gravi, quindi non hanno potuto dare il loro contributo, però comunque la squadra sta lì, insomma. No, no, sono lì. Forse per le caratteristiche umane di Umberto, sai, in questo momento bisogna vedere come, come riescono a reagire. Ecco, se riescono a reagire positivamente, sicuramente si rialzano. Se invece esplode il caos, sarà, sarà difficile. Sì, ma, insomma, non so, vediamoci anche frati che è sempre agguerrito, di conseguenza, sono uno staff, credo che come staff senza nulla togliere agli altri, però penso che sia uno dei più importanti, eh, insieme a... È uno staff importante, insomma, due grandi esperti di rugby, con anche caratterialità diversa, insomma, tipo potrebbe anche fare la figura che un po' tende a, non dico a spegnere, però, insomma, un po' a calmare Umberto, hanno anche Stefano Romagnoli, insomma, che è un grande uomo di rugby, che può aiutarli nel percorso. Eh, sì, è uno staff importante, con una squadra importante, le aspettative sicuramente a inizio del campionato erano, erano molto alte, ci sta anche che però durante questo lungo periodo possano vivere dei momenti un po' più di difficoltà. Dai, veniamo a noi con la Nazionale, intanto complimenti per le sei convocazioni delle Zebra, Simone Gesi, Ala, 21 anni, per Galles e Scozia, lui ha preso tutte e due le convocazioni, poi Rizzoli, pilone sinistro, vent'anni anche lui, esordiente, Luca Bigi, Luca Bigi è una è una colonna, sì, è un pilastro della Nazionale, 45 caps, non ricordo male, Zamboni in due caps, Fusco, 8 caps e per Bruno 10 caps, che oramai diciamo che è un metà, ma neanche per la Nazionale. Beh, Pier, lo sappiamo bene, è un ragazzo che fa della fisicità, della grandissima determinazione, il suo punto di forza, non molla un secondo, quando è concentrato su questo tipo di prestazione, è un giocatore che in campo lo vedi e produce situazioni positive. Ha migliorato tanto anche l'aspetto difensivo, quello che era un po' magari il suo debole, però adesso sta molto più alto con la linea, con la linea difensiva e questo gli ha permesso anche quella bellissima meta di intercetto. Quindi quando è nel suo flu, quando è in questo tipo di concentrazione, Pier è uno che insomma è un guerriero, un campo, no? Quindi c'è un casino di grinta lui, lo vedi anche quando va a contatto, continua a spingere, capire il suo punto di forza e questa grande determinazione che l'ha sempre contraddistinto ed è importante, ed è importante averlo anche con queste caratteristiche in una squadra di questo tipo. Domani 15 e 15 a Roma e poi sabato 18 marzo a Marifill, dalle 13 e 30 italiane, perché per loro sono un'ora avanti. Tra parentesi, hai visto che Macron ha rinnovato il contratto con Fir? Sì. Non so, non ho capito per quanti anni ho letto la notizia, però diciamo che interessante dal punto di vista. Beh, innanzitutto i rinnovi e sempre il nostro movimento non sono scontati. No, infatti è stato contento. Quindi vedere che qualcuno anche per quello che riguarda appunto sponsorizzazioni o partnership ci crede, questo è che siamo fieri. Senti, allora, domani la partita, questa è una partita diciamo che è importantissima per tutti noi, cioè sia per l'Italia sia per loro. Come la vedi non c'è Capuozzo, però secondo me, che sia un giocatore interessante, però ci sarà Tommaso Allan, 15, con un triangolo allargato che poi vedrà Padovani e Bruno Alleali con Menoncello e Brex come coppia centrale, Garmisi e Varney poi. Sì, è una partita fondamentale per tutte e due le squadre, in modo diverso chiaramente, insomma, per noi italiani, sai, le aspettative adesso si sono alzate tantissimo, quindi quello che il pubblico, che anche la squadra credo che è consapevole, che si aspetta, si aspetta tanto. Per il Galles invece, insomma, dopo questo momento che durerà ancora per un po', credo per loro, questo momento di difficoltà, però è chiaro che è sempre una squadra ricca di giocatori con grandi qualità, importanti, bisogna vedere se riescono a trovare la dinamica fra di loro che li faccia esprimere per quello che possono esprimere. Questa è un po' la battaglia psicologica. Sul fatto che non c'è Capuozzo, sì, insomma, perdiamo tanto per quello che è il gioco che stavamo producendo. Kiran ha spiegato le sue scelte, chiaramente in modo molto chiaro. Si affida a Tommaso Allan, a Edoardo Padovani, due giocatori che hanno il gioco al piede, un gioco al piede importante, che hanno una una tranquillità e una serenità nella gestione strategica, perdiamo un pochino su quella che era la nostra la nostra inventiva. Esatto, questa sorpresa. Questo questo questa sensibilità in attacco che stavamo un po' sviluppando e che che ancora possiamo sviluppare. Però è comunque una squadra una squadra che sta che sta prendendo sempre più confidenza di quello che può fare. E questo è importantissimo, è importantissimo per quello che è la battaglia mentale. Secondo te, allora, questa è un po' anche l'ultima spiaggia perché sia per Gatland che per noi, nel senso che siamo le due squadre abbordabili da tutti e due i sensi, cioè sia noi per loro che loro per noi. Perché poi la prossima sarà con la Scozia, ma io non credo che la Scozia arrivi rinunciataria o arrivi, anzi noi andiamo da loro, quindi quindi sarà una partita difficoltosa anche perché loro sia sull'onda dell'entusiasmo, sia perché non vogliono mollare il colpo e magari cercare di arrivare a secondi, visto che comunque sono a pari punti, beh diciamo che sarà una battaglia importante. Quindi per noi è un po' diciamo la partita della vita di quest'anno. Per noi ogni partita adesso, Roberto, io credo che sia importante, cioè abbiamo fatto ecco quella parte di gara contro l'Inghilterra che c'è un po' tutti un pochino delusi, tra virgolette, quindi dobbiamo fare 80 minuti di grandissima qualità, una grande prestazione, sono d'accordo quando anche Crowley dice comunque noi puntiamo prima su noi stessi a fare, a dimostrare i miglioramenti, a dimostrare che possiamo performare con consistenza ogni partita e poi è chiaro che il risultato deriva da tanti altri fattori, deriva dall'esecuzione, da pochi errori, da anche quanto performa il piazzatore piuttosto che la tusce, piuttosto che il drive, delle difese, perché comunque se guardi anche su il gap contro l'Irlanda, sono anche, possiamo vederla anche come quelle due mete che concediamo nel primo tempo un pochino, no? Insomma sul lato corto ci avevano studiato che avrebbero trovato magari una difesa un pochino meno aggressiva, hanno sfruttato, hanno assorbito due giocatori, contatto diretto, uno float e sono andati oltre. Lui è spaventoso, lui è spaventoso, è una forza mostruosa, cioè un centro che c'è il fisico da pilone. Io credo che noi dobbiamo partire comunque da una solidità difensiva e nella conquista di altissimo livello e quindi non concedere punti e poi da lì la squadra abbiamo visto che invece sa costruire l'opportunità per segnare, anche là dipende, costruisci le opportunità, le porti a casa e sei più vicino a vincere la partita. Abbiamo perso, beh io vedo, abbiamo perso che mi ricordo un paio di occasioni veramente importanti dopo un line break ancora di Lorenzo Cannone, perdiamo il palla su breakdown, insomma le abbiamo avute l'opportunità per vincere la partita là, no? Con l'Irlanda dici? Sì, con l'Irlanda. Sì, sì, sì. Quindi cioè noi dobbiamo puntare a questo, a quando costruiamo l'opportunità a portare comunque a casa punti, che siano tre, che siano cinque, che siano sette, una volta a casa e ancora ripeto però partendo da una difesa che rende veramente complicata la vita all'avversario il fatto di poter segnare perché questo ti toglie quella confidenza o quella anche supremazia che sulla carta magari sentono. Tra l'altro appunto io mi aspettavo delle quotazioni diverse ma in realtà si stanno lì lì ma credo che diano favori dal Galles ancora. Sì, credo di sì. Per poco. Sì, peraltro se si sistemasse la faccenda dei primi 20 minuti iniziali dove sembra che si debbano un attimo concentrare o entrare in gioco forse le partite sarebbero andate in un'altra maniera. Esatto. I 20 minuti iniziali sono stati sempre negativi per noi. Sì, sì, un pochino esitanti, un pochino cioè con meno determinazione, con meno efficacia anche. Questo sicuramente ha pesato. È chiaro che, ripeto, adesso bisogna vedere con una piccola modifica la formazione quanto perdiamo in attacco o se perdiamo in attacco, perché può darsi no. Io mica detto. Tommaso Alan con gli Arlequins insomma ha dimostrato di essere decisivo anche da estremo. 69 Caps, eh? Comunque. Diciamo che quando il gioco, forse, possiamo analizzarla così, quando il gioco, quando la partita diventa un pochino più prevedibile, perché anche il Galles non uscirà dal suo piano di gioco dalla sua identità. Il Galles verrà qui con una difesa solida, una conquista solida, gioco al piede, contestabile in aria o forse alcune volte lunga, proverà a mettere pressione con la difesa, a forzare degli errori o a forzare dei penalty, ma quello è. Ecco, io spero che noi invece troviamo la capacità e la forza di continuare a un po' a creare, a interpretare il gioco, perché la percezione è che se ci strutturiamo troppo, se cadiamo in un gioco troppo strutturato, diventerà difficile. Perché comunque il Galles è una squadra solida. Eh sì, è una squadra solida sì, ma secondo te su che cosa punterà Crowley per la partita scacchi, su che cosa si baserà? Ma sicuramente avranno lavorato un po' sul breakdown, ma anche lì non è che ci sono state grosse problematiche, però alcuni breakdown sul fatto di avere una palla più pulita, meglio assicurata, insomma sì, sì, se miglioriamo anche lì, perché per quello che riguarda la velocità, anche quello possiamo migliorarla, ma insomma abbiamo fatto anche line break, quando fai line break ti aspetti, o insomma devi lavorare per fare in modo appunto, ripeto, di portare a casa i punti. Se invece perdi l'opportunità, poi anche le probabilità del risultato un po' diminuiscono, però abbiamo questa, abbiamo una formazione di tutto rispetto, esatto. Secondo me noi siamo anche più veloci nel gioco rispetto a loro. Perché noi vogliamo adesso fare un gioco che va in questo senso, loro no, loro vogliono fare un gioco più fisico, più prevedibile, più strutturato, meno creativo sicuramente, anzi quasi zero creativo, e sfruttare un po' quello che sarà il gioco al piede. Bisogna vedere anche come reagiamo al gioco al piede, soprattutto quello contestabile, quello alto. certo. Se reagiamo bene, se vinciamo anche la battaglia aerea, insomma, come modelli di gioco quello dell'Italia potrebbe essere in vantaggio. Di sicuro a questo punto non credo che ci sottovalutino, soprattutto dopo la prestazione con l'Irlanda. Ormai non credo che ci siano squadre che sottovalutino l'Italia, se lo fanno prendono trenta punti. Eh, esatto. La cosa che mi è spiaciuta con l'Irlanda è stata quella di non prendere il punto di bonus. Sì, sì. Forse lì... Diciamo che dopo le due metri che abbiamo concesso c'è stata una grande reazione, quindi anche io magari la domanda sia giusta quella che tu fai. Cioè, come sarebbe andata la partita se avessimo... se fossimo partiti già con la difesa che poi abbiamo riportato durante quasi tutto il resto della partita. Perché è stata una difesa molto solida, eh. Caspita. Molto solida. Forse, vedi, anche con l'Inghilterra è un gioco prevedibile, sai che ti vengono ad affrontare fisicamente, non devi fare tante letture, vengono lì, vengono con la conquista e vengono con un gioco diretto. Quindi se tu là subito dimostri la fisicità che hai dimostrato e che sai dimostrare, eh dopo diventa complicato perché le certezze di chi viene a giocare così diminuiscono. E poi soprattutto se tu nelle occasioni che costruisci te le porti a casa e là la pressione del risultato conta tanto. Soprattutto in un Galles che ripeto comunque se tu riesci a far tremare le gambe a questo Galles, è facile che si rialzi. Bisogna chiedere di fare i primi venti minuti che non valgono con lo score. E dopo giocare anche per i primi venti minuti non valgono e poi dopo giocare a vedere cosa succede. Senti, invece la Francia va a Twickenham, giocano dopo di noi nel pomeriggio. Gattino da Jalibert, Manta, Marc, Dupont ci sono. Sì, ritorna a Jaminé in panchina. Sì, sì. No, è una squadra che va lì per suonare la carica contro un'Inghilterra comunque che sappiamo non esprime un gran gioco. Adesso io ancora non avevo visto la formazione, non ho uscita. Dice a quanto pare, perché dice che Boswick vuole mettere, fare l'in panchina. Beh, io ho visto la partita, non so se l'hai vista, di Premiership, Harlequins contro Exeter e devo dire che anche lì la mediana di Harlequins con Danny Kerr e Marco Smith hanno fatto una grandissima prestazione, una grandissima prestazione, come tutta la loro squadra. Quindi sai, anche là le scelte, non è facile sempre trovare il giocatore che sta nel suo massimo della forma. Quindi magari se lui si sente di dare di fiducia a un giocatore come Marco Smith, che è completamente diverso, comunque hai un'apertura che interpreta e crea il gioco contro un'altra apertura che è molto fisica, che è molto inquadrata, che è molto efficace, però quel gioco fa. Sai, però anche lì lo stato di forma secondo me dovrebbe influenzare un po' la selezione dei 23. Pare che poi lui non veda fare il centro con Smith apertura. Sì, potrebbe essere, a parte che sì, forse anche lì mette i due centri insomma più fisici. Sì, però è sempre, anche là l'Inghilterra magari non esprime in questo momento un gioco entusiasmante, però attenti, perché fisicamente sono delle bombe a mano. Eh sì. E come qualità di giocatori ce n'ha da vendere. Quindi, però la Francia sappiamo che invece se riesce anche lei a destrutturare il gioco diventa quasi inarrestabile, perché ricordiamo che insomma quando la Francia gioca, che magari tu vedi che oddio adesso subisce meta, pa, ti fa delle azioni collettivamente che sono una meraviglia. Beh, loro sai, poi hanno tanta esperienza proprio tra di loro come giocatori, quindi diciamo che possono contare, ecco, proprio sulla loro, non solo sulla fisicità, ma sulla loro competenza proprio da, di conoscenza tra di loro, ecco. Sì, 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 e questa conoscenza, ripeto, il punto di forza è che proprio ne sono consapevoli in qualsiasi momento, sia che stanno subendo, magari un momento in una situazione di pressione, ossia che sono loro a rimporla. No, no, è una squadra, quando si libera, quando esplode, per me è bellissima. Sì, magari non hanno ultimamente, non hanno un gran gioco spettacolare, però... No, perché anche la pressione su di loro è chiaramente adesso aumentata, perché c'è l'Irlanda che fa da traino, la Scozia che comunque sta in un momento formidabile, e quindi la pressione è anche su di loro adesso. Eh sì, eh. E poi Scozia-Irlanda. Eh, questa è l'altra partita. Eh, perché poi oltretutto Farrer si riprende Furlong, rientra Gibson Park e è in show, è anche Eppi. Cioè, se hai messo giù la formazione, mi sa che non vuole rischiare niente lui, eh. Eh, ma... Cioè, lo sanno, lo sanno che sarà una partita, soprattutto, credo che i primi minuti da scintille. Eh beh, sì, direi di sì. Tutte e due hanno comunque un ottimo gioco al piede, leggermente diverso, ma... Ma insomma, è una parte importante del loro modello di gioco e anche delle difese che si sono dimostrate. Anche la difesa della Scozia, in alcuni momenti sembra che non riesce a trovare breccia, eh. Mmh, sì, sì, sì. Poi anche altissimo, altissimo livello. Hanno giocato con una grandissima velocità e la Scozia. Sì, ecco, la Scozia, se prende, se prende il momentum di gioco, la velocità diventa pericolosissima. Eh. L'Irlanda ha questa grande capacità di giocare quasi a memoria, anche lì. Sì, è chiaro, con Sexton a tanti momenti cambiano. Senza di lui non va male, ma leggermente diverso. Sì, beh, lui è comunque quel qui di in più che dà sicurezza alla squadra, velocità, cioè, diciamo che lo vedi quando non c'è lui, eh. Esatto, esatto. No, ci siamo persi un po', Roberto, che dici della formazione del Galles? Perché, insomma, ha qualche cambiamento. No, infatti, non ne avevo parlato. Sì, allora, sì, sì, il Galles, anche loro hanno preso dei giovani, hanno convocato dei giovani e poi stavo guardando proprio l'età e i caps, no? Sì. Cioè, per esempio c'è Williams che ha 83 caps, Adam 47, cioè, eh, voglio pensare. Hanno messo, secondo me, dei giocatori un'ossatura importante in termini di esperienza e di, sì, di capacità, proprio di competenze. E poi dentro hanno messo, hanno fatto questi, questi inserimenti anche in mezzo al campo, insomma, i due centri, sono due centri giovani. Sì. Un altro, chiaramente, con una fisicità, sopra, oltre uno e 90, 110 giovani. Sì. E, so, so, Grady e Hawkins, sono due centri che stanno mostrando nel campionato UFC di avere talento e fisicità e competenze. Però, c'è il suo secondo caps, no? Sì, secondo caps. Sì, anche, anche l'ala, insomma, preferiscono far partire Dwiler e mettere Riz Zemmich in panchina. Sì. Però, insomma, una formazione, ecco, forse, boh, non, 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 forse. Ma comunque, tipo un riceferrato, sono due garanzie, eh? Sì, beh, chiaramente, forse, io vedo, leggo l'inserimento di questi giovani dall'inizio, perché, chiaramente, in un momento di difficoltà, hai bisogno di energia. Cioè, hai bisogno di spensieratezza, hai bisogno, e questa te le dà il giovane. È chiaro che sono giovani comunque competenti, non è che non hanno, non sono, non conoscono il gioco, anzi. Anche la loro apertura, Williams. Esatto. Insomma, sono giocatori esperti. Però ti danno un'energia diversa che in questo momento è importante, un'energia positiva importante nel loro ambiente. Però è importante anche l'affidabilità. E quindi, ecco, da là, forse, ecco, io la leggo un po' così, la loro, la loro formazione. Però, ripeto, è interessante, forse, forse è dove ci sono grandissime aspettative da entrambe le parti, però la partita poi relativamente al sei nazioni diventa forse sicuramente tra l'Irlanda e la Scozia. Sì, insomma, è un quarto turno ancora bello. No, no, tra parentesi, io credo che l'Irlanda stringa molto per chiudere sei nazioni, eh, domani. Eh beh, sì, perché comunque se non vanno a bonus le altre squadre, se domani vince... Eh, c'ha grosse probabilità, sì. Cioè, diciamo che a quel punto è proprio difficile perdere l'ultima partita e che gli altri, cioè che tutto vada è contro di loro. Ecco. Sì, 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 sì. Forse non ci aspettavamo, non lo so, l'Inghilterra lì a pari punti, là con... Ma l'Inghilterra è sempre l'Inghilterra alla fine. No, no, l'Inghilterra è sempre l'Inghilterra, certamente, però poi dopo loro giocano Irlanda e Inghilterra l'ultima giornata. Eh, sì. Quindi altra partitona. Però se loro riescono a portarsi a casa il risultato domani, eh, diciamo che è quasi fatta. Possono andare in campo con uno spirito diverso, eh. Sì, sì. A proposito, quella classifica dice Irlanda a 15, Scozia a 10, pari punti con Inghilterra, Francia a 10, anche loro pari punti, Italia a 1, Galles 0. Un divario comunque importante di punti, eh, tra tutti? Eh... Eh, 10, 15, 1? Sì, si è visto, sì, si vede queste squadre che comunque quando devono portare a casa i punti, i punti di bonus o vittorie lo fanno e un'Italia che anche se sta crescendo comunque deve dimostrare, noi cioè noi dobbiamo dimostrare di essere competitivi a livello di risultati, no? Noi siamo all'inizio di un percorso. Eh sì. Le altre sono squadre già ben ben consolidate. Se vediamo anche da dove, dal loro passato, ripeto, per me sono squadre ben consolidate. Il Galles è chiaro che è invece una squadra che sta verso il fine di un ciclo, quindi ecco perché magari anche gli innessi di qualche giovane, in più sta vivendo questo grosso momento di grande difficoltà che credo durerà per un po', insomma, non sarà breve. Però ecco, forse la lettura, io la leggo così, insomma, sono le squadre in prima, le squadre davanti sono squadre già ben consolidate tra di loro. Sì, sì. Le roster giocano insieme da tanto, la Francia che viene da un percorso lunghissimo di anni fa, che parte dall'Under 18, l'Under 20, che poi è diventata prima squadra. Noi possiamo fare lo stesso, un percorso simile se pensiamo non a questo mondiale, al prossimo. Perché potremmo avere una visione veramente a lunga distanza. Eh ma guarda Roberto che le grandi squadre quando arrivano a ottenere grossi risultati non ci arrivano perché comprano destra e manca e vincono. Cioè ci arrivano perché hanno, ci arrivano dopo un percorso. Guarda tutti, guarda tutte le grandi storie dei grandi eventi sportivi in qualsiasi sport. Non c'è una squadra che nasce, che dice oggi è l'anno zero, investe milioni o miliardi e vince. Cioè vince grandi, diciamo, ottiene, raggiunge grandi imprese. Non ce n'è una, non ce n'è una. Tutte quelle che raggiungono grandi imprese ci arrivano dopo un percorso, un percorso di anni. Cioè è questo uno lo deve tenere in considerazione perché c'è un lavoro dietro, c'è un percorso, c'è un viaggio. Beh come tutti i campioni, soprattutto nell'atletica, non è che vedi uno che esplode, uno che esplode sì esplode perché si è fatto la gavetta prima. Esatto, insomma io sono appassionato di storie sportive, quindi vado. Non lo sapevo, sei un cultore della storia degli sport? Diciamo sono, mi appassionano le grandi imprese che poi siano sportive, di sport individuali o di squadra o anche imprese di montagna, di alpinismo, di esplorazione, cioè mi piacciono e quindi tutte quelle che riescono a ottenere grandi imprese, Roberto, ci arrivano dopo un percorso lungo. Non arriva nessuno con un percorso breve. Quindi devi avere ancora una volta una visione e la capacità di guidare un progetto durante il tuo viaggio. Certo. Allora visto che sei appassionato di montagna, la prima volta che ci vediamo vis-à-vis che abbiamo un attimo di tempo ti racconto un po' di aneddoti su Walter Bonatti perché era l'amico del cuore di mio padre. Io sono cresciuto con Walter Bonatti. Ah, bellissimo, bellissimo. Chiaramente io ero bambino e sapevo la storia del K2 quando con Ardito Desio, insomma quello che era successo, che poi è venuta fuori dopo tanti anni perché era sempre stata taciuta, però noi la sapevamo e lui era un personaggio partito. Non era un gran simpaticone, devo essere sincero, perché gli piaceva parlare poco e tutto quanto, si trova bene con mio padre, quindi lo trovavo spesso in casa. Però vedi, magari anche lì, no, uno pensa, vabbè, quelli sono bravi scalatori, arrivano lì, vogliono scalare il K2 o l'Everest, arrivano e scalano, ma ci arrivano con un percorso di anni. Cioè, dobbiamo capire che, ripeto, i grandi successi si ottengono alla fine di un viaggio, cioè di un percorso lungo dove c'è tanto lavoro dietro, c'è tanta preparazione, insomma, non è così veloce come uno può pensare. Immagini te se uno pensasse che Schwarzenegger ci ha messo a diventare, all'epoca ovviamente, quando era Mister Universo, non so, in un annetto. Esatto. Un po' di palestre, no, quelli lì sono cose che avvengono dopo una vita di allenamento. Esatto. Esatto. Quindi noi abbiamo, io vedo questa grandissima opportunità, quindi non solo per questo mondiale, ma proprio se mi dovessi esporre, cioè mi esporrei proprio per il prossimo, perché arriverà dietro anche altri giovani che magari ancora non hanno, non stanno facendo esperienza, ma arriveranno e tu puoi, puoi avere l'opportunità di arrivare con una squadra veramente esperta, piena di energia e che ha imparato anche come, come si costruiscono le vittorie. Certo. Senti, noi ci vediamo venerdì prossimo. Va bene. E così parliamo sia della partita come sono andate e dell'ultima, quindi lì si deciderà un po', un po', si decideranno un po' tante cose, insomma, ok. Vediamo se questo turno, questo quarto, sposta gli equilibri oppure li mantiene aperti fino fino alla fine. Guarda, io penso che l'Irlanda vincerà sei nazioni e che domani l'Irlanda vincerà, nonostante tutto. Credo che, che cosa faremo noi risultato, quello non lo dico perché potrei essere o la torre di sfiga, ho capito, un profeta no, però la torre di sfiga sì, quindi quello no, non me la sento. E gli altri io credo che comunque, l'Inghilterra forse vince, diciamo che adesso i bookmakers non ho visto che cosa daranno, però per me l'Inghilterra domani se la porta a casa. Non lo so, io per quei tipi di partite lì non li trovo scontati, soprattutto quando ci sono due modelli di gioco molto diversi. Per me c'è una grande battaglia là, dipende quale squadra riesce a far fruttare il suo modello di gioco, ma quando giochi con una squadra che da qualsiasi parte in qualsiasi momento può, anche lì, può segnare, può crearti quel momento in cui ti taglia le gambe. Io credo che domani, allora la Francia pur gran motivazione, tutto quello che vuoi, ma vanno a Twickenham e io penso che gli inglesi domani, ma se anche la perdono, ma venderanno la cara alla pelle in una maniera pazzesca. Quello sicuramente, c'è anche il fatto che la Francia ci arriva non da primatista, quindi là un po', sì, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, io penso che la Francia che peraltro anche loro giocheranno, non so, do più credito agli inglesi che non ai francesi domani. Perché? Perché fanno un gioco più semplice. Sì, sicuramente, secondo me anche fisicamente possono anche metterli sotto. Sì, l'Inghilterra ha questo fatto che fisicamente quando vuole, cioè non ha confronto, fisicamente sono d'accordo. Anche l'ambinato di premiership tu vedi già fisicamente. Niente, insomma. Capito. Se poi togge domani e informa che c'ha voglia e che tutto quanto... Vediamo intanto che formazione dirà fuori Bortwick. Perché non è nemmeno facile... Cioè, da una parte dici che faccio, schiero il figlio... Eh. Sì. Perché tutto il pubblico magari se ne risenteranno, tutti gli inglesi che se lasci fare... Puoi fare. Non so, ma è un loro beniamino, no? Ma io credo che... Allora leggevo che dal... Non so quanti anni è che lui non parte in panchina, che parte sempre titolare e via di seguito. Sì, è vero questo. C'è da dire anche un'altra cosa, tatticamente, almeno credo. Se questo entra al secondo tempo, che è incattivito come se non ci fosse un domani, corre per sei. Sì, sì. Io vedo proprio due caratteristiche completamente diverse. Insomma, Marco Smith è più simile a un gioco, un'interpretazione come la Francia. Sì. Anche con gli Arleguin, se fa questo. Sì, gioca il sistema, ma lui non esegue il sistema. Lui non è un esecutore. Lui è un interprete, un creatore, un... E' un fantasista, come si dice. E' uno che esplode, che esprime se stesso dentro il sistema. E questo è meraviglioso per uno sport. Io lo trovo meraviglioso per uno sport come il nostro, che è di situazione. Il nostro sport non è lineare, non ci puoi mettere troppi paletti intorno, perché non è così. La natura del nostro sport non è così. E quindi io preferisco, mi piace più vedere questi giocatori che interpretano e creano, che si esprimono. Poi è chiaro che anche lì è più complicato, perché poi, sai, non è solo un giocatore, perché tutta la squadra deve giocare la situazione sulla stessa linea in lunghezza d'onda. Però è più bello, è bello. No, no, certo. Quell'altro è molto più rigoroso, diciamo, ecco. Va bene. Senti, incrociamo le dita per domani. Buon rugby a tutti e ci vediamo venerdì per commentarla. Va bene, va bene. Dai, grazie Fabio, a presto. Grazie a te, ciao Roberto. Grazie a te, ciao Roberto.